Ma chiediamo risorse economiche perché i privati non vanno lasciati da soli, anzi a chi oggi sta pulendo il proprio garage, la propria casa, la propria azienda, chi si è visto distruggere il raccolto agricolo, noi dobbiamo dare risposte concrete. E queste risposte concrete arrivano attraverso gli stanziamenti che lo Stato deve fare per risarcire questi danni. E in secondo luogo noi chiediamo meno burocrazia, meno vincoli, meno lacci nella gestione della tutela ambientale nella nostra regione. Non è possibile che per tagliare una pianta in un fiume si debbano avere mille autorizzazioni che viaggiano per tutta Italia, che ogni sindaco rischi ogni volta che fa un intervento di essere denunciato. I fiumi devono essere manutenuti, devono essere puliti e su questo devono consentire alla regione in autonomia di gestire le proprie emergenze ambientali. Poi c'è stato un morto, molta paura come sempre, danni che credo non siano al momento calcolabili ancora. Ci sono delle responsabilità da imputare per questa ennesima ondata di maltempo? La macchina dei soccorsi ha funzionato bene, il Piemonte è stato autosufficiente con i gruppi di volontariato e di protezione civile. Siamo stati in una situazione che ci ha permesso comunque di gestire questa crisi con capacità e anche prevedendo ed evitando che ci potessero essere situazioni peggiori. Quel che rimane certo è che purtroppo a 25 anni dall'alluvione che ha messo in ginocchio il Piemonte, noi siamo di nuovo qua a parlare di alluvione, a parlare di un territorio idrogeologicamente fragile e a parlare di vite umane che vengono spezzate. Morire travolti da un fiume di fango nel 2019 in un paese moderno come è l'Italia e il Piemonte non è qualcosa che noi possiamo accettare. E su questo noi chiederemo conto alla possibilità davvero che il Ministero ci tolga i vincoli e i lacci e che ci lasci gestire insieme ai sindaci la sicurezza delle nostre realtà, delle nostre valli e delle nostre colline.